Ci saranno le dovie eliminazioni, si procede a cuore di una simbola per la doppia eliminazione. Ho superato il primo traguardo del 25, tra breve meno 24, spillo per la campana, successivamente a meno 23, prima doppia eliminazione. Non è molto confuso. Non è molto confuso. Prima doppia eliminazione tra... Dopo questo video della campana che abbiamo appena sentito sul nostro superguardo. Prima doppia eliminazione. Vengono eliminati i concorrenti numero 57 e il numero 28. Vengono eliminato il numero 57 e il numero 28. Vengono eliminato il numero 57 e il numero 28. Vengono eliminati. Vengono eliminati i concorrenti 236. Vengono eliminati i concorrenti 248. con i concorrenti 249. eliminati i concorrenti numero 109 e i concorrenti numero 123 eliminati i concorrenti 109 Garzatti e Martina che si deve fermare e 123 con il G. Marco che si deve anche lui fermare eliminato il concorrente 380 per voi Manuel in precedenza si era ritirato il concorrente 315 Siba Paolo il concorrente 380 si deve fermare perché è eliminato per la loro madre si deve fermare perché è eliminato il concorrenti numero 453 Cavardella Quinto che si deve fermare e il concorrente 290 Currani Ciabrea questi due avventi si devono fermare ripeto 453 Cavardella Quinto e 290 vengono eliminati i concorrenti vengono eliminati i concorrenti 142 Cavardella Quinto e 102 Davide Volgone Cavadi buona scoperta eliminati i concorrenti 586 397 eliminati i concorrenti 586 incontrati in guardo e 397 ma in seguito i miei passi questi attenti si possono rimanere determinati singola eliminazione del 2016 eliminato il concorrenti numero 53 che si deve fermare eliminato sull'eliminazione singola dei neurofittici eliminazione singola dei neurofittici il concorrenti il concorrenti eliminato il concorrente 230 abis il concorrenti 53 si deve fermare perché è eliminato sul preguardo di meno 16 14 al termine singola eliminazione attenzione a trefi 14 al termine singola eliminazione eliminato il concorrenti numero 161 pesana gabriere eliminato il concorrenti 161 pesana gabriere siamo a meno 13 e avremo un'altra singola eliminazione gruppo compatto in responsabilità dei neurofittici non ci sono tanti così vi sono segnalati i principi percorsi siamo a meno 13 dal termine di gestione di gestione a trefi eliminazione in conto eliminato il concorrente 652 taricco gabriere eliminato il concorrente 652 taricco gabriere siamo eliminato il concorrente 652 taricco gabriere ci vedete fermare traguardo di meno 12 eliminazione signora in corso eliminato il concorrente 390 girati gabriere e avvoluzione anche del concorrente 441 gubamitaria siamo unici dalla conclusione eliminazione in corso attenzione atleti sali 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 eliminato il concorrente numero 108 mascappini di Tommaso che si vuole tornare perché eliminato 10 ciri in corso abbiamo ancora 10 in corso programmatico prima della valuta finale gruppo campato che sta per la sopraggiungere sottoquarto di 10 in corso eliminazione signora in corso attenzione presi dai 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 che si vuole tornare eliminato il concorrente 441 441 umanità adriana che si deve fermare perché è eliminato stiamo portando ormai i nuovi tiri allo tiri la produzione è la messima eliminazione scelta in corso attenzione a te sali 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 Eliminato i concorrenti sono 52 Paietta Gavriere, eliminato i concorrenti 52 Paietta Gavriere che si deve fermare perché è eliminato. Il gruppo, il gruppo di contatto con questa valente sia del grado di Milano, 8 Gio a termini di 40 per non andare in Italia, per il Catticcino, per il Catticcino. eliminato il concorrente numero 212, Proverbio Simone, eliminato il concorrente numero 212, Proverbio Simone deve fermare, siamo a semplicire una conclusione, altra singola eliminazione, attrazione da Ravetti, eliminazione del passaggio numero 7, eliminato il concorrente numero 25, Erra Fabrizio, eliminato il concorrente 125, Erra Fabrizio, stiamo avvicinando ai 16 termini, 11 minuti sul percorso di gara, 6 pilota eliminato prima della volata finale di scuola del riguardo, questa è la gara di scuola, 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 eliminato il concorrente 210, si dia lontano numero 210, si deve fermare perché è eliminato, il concorrente numero 24, andiamo a 5 giri di scuola, il gruppo si sta bilanciando leggermente, il gruppo si era mantenuto contatto fino a questo momento, non è sentitato, il gruppo si gatherla, di scuola, di scuola, di scuola, di scuola, di scuola, di concorrente South soon, e si deve fermare perché di scuola, di scuola per grasso, di giro su aosmikeeper, si è eliminato il concorrente 3.8 San Giorgio di a fine, si deve fermare per femenaccio, che si deve fermare, eliminato il concorrente 38 San Giorgio di a fine, si deve fermare perché esagerare Non esiste, non esiste, non esiste, non esiste. Non esiste, non esiste, non esiste. Non esiste, non esiste, non esiste, non esiste. Non esiste, non esiste, non esiste, non esiste. Non esiste, non esiste, non esiste. Non esiste, 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 non esiste. Non esiste, non esiste, non esiste, non esiste, non esiste, non esiste.